74 anni fa nasceva uno dei giornali che avrebbe rivoluzionato il mondo dell'informazione per il personale scolastico. Di chi stiamo parlando? Della tecnica della scuola. Vediamo insieme le tappe di questo lungo percorso. L'ispettore scolastico Filippo Papa fondò una testata di cultura e tecnica scolastica dedicata ai docenti della scuola elementare della Sicilia. Nasceva così il 10 maggio 1949 il giornale cartaceo La tecnica della scuola. In un periodo di crisi del giornale vennero Girgenti, uno dei collaboratori più validi e fidati dell'allora direttore, rileva la testata e il primo luglio del 1962 ne diventa ufficialmente l'editore e il direttore. A Girgenti venne un'idea che avrebbe cambiato il modo e lo stile dell'informazione scolastica. Grazie a scelte editoriali nuove e alla costante attenzione alle esigenze professionali dei docenti, in pochi anni il quindicinale diventa in tutta l'Italia leader nel settore. Nel 1998 muore Girgenti, un mese prima della realizzazione del suo sogno, il quotidiano online della scuola. Sarà la figlia Daniela che ne prenderà le redini, insieme allo storico collaboratore Sebastiano Calogero. Ma è nel 2014 che arriva la svolta. Il primo settembre di quell'anno, infatti, la rivista cessa la pubblicazione cartacea per rivolgersi ai suoi lettori esclusivamente su internet. La tecnica della scuola passa così al mondo digitale, con notizie, aggiornamenti, approfondimenti, interviste in tempo reale. Dal 2016 il professore Alessandro Giuliani, che da anni collaborava attivamente al giornale, ne diventa direttore responsabile. Il giornale oggi poggia su basi solide e consolidate, che è l'aggiornamento continuo e quotidiano dell'informazione scolastica, con una finestra sul mondo dei social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, una sezione multimediale con il canale YouTube ricco di guida, interviste e diretti approfondimenti e il canale podcast con le live news. Cambio le mezzi, ma l'obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di essere un punto di riferimento fermo per tutto il personale scolastico e non solo. Buon compleanno, tecnica della scuola!